Il momento di più grande gioia perché questo progetto è nato con loro, è nato con i bambini che io ho chiesto sempre che fossero non semplicemente ospiti ma abitanti del nostro cantiere. I bambini sono gioia, sono stupore, sono meraviglia, loro ci insegnano a riscoprire la vera genuinità, loro sono sempre presenti, noi tante volte no e loro ci educano a fare politica nel modo giusto, con i toni giusti, scegliendo sempre il registro della positività, scegliendo sempre quella via dell'armonia. I bambini che avete visto qui sul palco sono ormai presenti con noi fin dall'inizio, li abbiamo coinvolti, si sono coinvolti, sono diventati protagonisti davvero e uno di loro, Luca, prima di entrare mi ha detto che se diventi sindaco ci devi dire grazie. E prima di uscire poi mi ha detto, ma ce lo dici grazie? Grazie bambini! Vedete, quando tu nella politica fai entrare le famiglie tutto cambia, tutto cambia, perché è la famiglia la cellula nella quale nasce la prima consapevolezza della partecipazione, dei problemi, delle istanze, dei bisogni. La famiglia deve essere sempre al centro dell'azione politica, ma non basta questo, ci deve stare dentro l'azione politica. La famiglia che esce di casa deve frequentare i luoghi della politica, i luoghi della politica non devono essere ostili, non si può pensare di fare politica per le famiglie senza le famiglie, non si può pensare di fare politica per i bambini senza i bambini e non si può pensare di fare politica per i giovani senza i bambini. Lo dico da sempre, qualcuno forse vi avrà già sentito, bambini, giovani, donne, famiglie. Ma voi pensate davvero che possiamo essere così presuntuosi da pensare servizi ed opportunità per persone che noi non coinvolgiamo nella politica? Possiamo essere davvero così presuntuosi da pensare di chiuderci in una stanza dieci maschi, stare lì con i calli al sedere per dieci ore e pensare di produrre qualcosa di buono? Non è così! Non è così! Li ho voluti fin dall'inizio con me. Questo progetto non è un progetto che nasca da me, io non ho inventato proprio niente, io l'ho semplicemente dissotterrato dalla mia coscienza e forse sono riuscito a farlo anche dalla coscienza di qualcuno di voi. Questa è un'idea, è un'idea che c'è sempre stata e che per qualche ragione che mi sfugge ancora non è mai stata presa e vitalizzata. Io mi sono semplicemente limitato a prendere quest'idea, a metterla sopra di me, sopra di me, non dentro di me, sopra di me, perché voi dovete guardare l'idea! Non dovete guardare me, dovete guardare l'idea! Ebbene, quest'idea è un'idea contagiosa, è l'idea che nasce dalla partecipazione. La partecipazione, quella che ci fa dire innanzitutto è che noi non bastiamo, io non basto, io ho tanti di quei limiti e li devo superare, ma per superarli ho avuto bisogno e ancora avrò bisogno sempre dell'aiuto di tutti voi, di tutti voi. Quando abbiamo iniziato questo cammino abbiamo cercato di coinvolgere in tutte le tematiche il maggior numero di persone. Chi si è avvicinato non lo ha fatto per adesione a un progetto, lo ha fatto semplicemente per poter discutere un tema, per poter portare le proprie proposte, le proprie istanze. E tra questi, guardate, voglio ricordarne uno in particolare, un ragazzino di 13 anni, Gennaro. Negli occhi di Gennaro, guardate, c'è una gioia, c'è una coscienza civica, c'è una consapevolezza di cosa significa essere cittadini ed avere entusiasmo per qualcosa, che io davvero vorrei che quegli occhi fossero negli occhi di tutti, perché basterebbero cento di quegli occhi per fare grande una città. Io, eccolo Gennaro, lo vedo. Lui è stato uno dei primi che ha raccolto l'invito a fare le proposte e mi disse Renato, per piacere, avremo bisogno di un parco per lo squinzagliamento dei cani. Adottata al volo! Ecco perché, guardate, è curioso, sono i bambini più sensibili a questo tema, il rapporto con gli animali, perché nel rapporto con gli animali loro scoprono quella genuinità. Noi spesso gli animali li trattiamo come impostori, ci affanniamo a precludere l'accesso a piazze, a iuole e luoghi pubblici senza garantire altri spazi. Lui si è posto il problema e noi lo risolveremo. Guardate, la politica, per come la vedo io, è molto semplice, non è così complicata. Bisogna scegliere e scegliere tra cose che hanno una netta differenza. Continuità, cambiamento. Non è difficile. Continuità, cambiamento. Cosa vuoi? Vuoi crescere tu o vuoi far crescere la comunità? Vuoi che le tue idee e i tuoi interessi siano al centro o ti interessano le proposte, le idee e la partecipazione della comunità? Questi sono dilemmi di facile soluzione, non sono degli enigmi. È facile scegliere e spostiamo anche sul pratico, già che grazie al cielo il lavoro più duro l'hanno fatto, quello di presentare alcuni punti salienti del programma. Qualcos'altro lo dirò io. Scegliamo cosa volete voi? Un giorno Antonello Venditti o cento giorni talenti di Corato? Scegliere è facile, basta volerlo. Scegliere è facile, noi possiamo farlo. Certe volte vedo un'attesa di speranza. Io invece, voi la vedete in me probabilmente, io la vedo in ognuno di voi. Ed è quella luce che mi ha caricato, mi spinge ininterrottamente. Noi andremo avanti fino alla fine e noi vinceremo. Perché noi abbiamo entusiasmo, noi abbiamo la passione, noi abbiamo la positività. E quelle sono cose che non muoiono mai. Si muore di rabbia, di polemica, di ostilità, di passione non è mai stato male nessuno, di gioia non è mai stato male nessuno. Continuità o cambiamento. il sogno della continuità è un sogno della notte scorsa, è un sogno già passato, già svanito. Noi abbiamo una prospettiva e ce l'abbiamo sul futuro, non abbiamo sogni, abbiamo una visione. È diverso, è diverso. Noi non vendiamo sogni, vendiamo davvero una rappresentazione della città che vogliamo. E questa rappresentazione, questa rappresentazione passa, sì, diciamo che passa anche da me. Ma dovete andare oltre me. Quello che ho sempre detto a tutti i candidati, ma lo dico ad ognuno di voi, cercando i vostri occhi. Voi non dovete mai investire su un'altra persona, voi dovete investire innanzitutto su voi stessi. Perché essere parte di una comunità significa per ciascuno di voi sentirsi protagonisti della comunità, protagonisti del cambiamento, essere consapevoli fino in fondo del ruolo che si svolge, anche in quella cabina elettorale. Questo progetto non vive con me, vive al di fuori di me. Io ne sono soltanto un rappresentante. Questo progetto ha già attivato decine di risorse straordinarie. Le risorse umane sono la cosa più bella che abbiamo. È su quello che si deve investire. Le risorse umane, le intelligenze, la creatività delle persone. Quelli sono i valori su cui investire, su quello noi costruiamo. E quando hai attivato decine, centinaia ormai di persone, non ti fermi più. Non si ferma più. Perché ognuno di voi porterà nelle rispettive case questo messaggio, questa positività. Ognuno di voi è protagonista. Non vi sto chiedendo di votare me. Votate voi stessi. Votate voi stessi. Non delegate niente in questa città. Dovete votare voi stessi. Lo dovete fare ogni giorno. Ogni giorno della vostra vita. Investire su voi stessi. Non delegate. Non delegate a nessuno, neanche a me. E quando io sarò lì a svolgere il ruolo per il quale mi sono candidato. Continuate a cercarmi. Continuate a pretendere. Io mi sono circondato di persone che potremmo definire dei rompiscatole. E lo dico in senso buono evidentemente. Persone che non ti fanno sconti. Persone che vengono lì con le carte in mano e con le idee in testa. persone che non ti chiedono un generico impegno. Ti pongono i problemi in maniera chiara, seria. Sono persone che sono già cellule attive. E che però non sono tante volte entrate nei processi decisionali. Perché? Siamo riusciti, guardate, a creare così tanti di quei filtri. così tante di quelle barriere che spesso le menti più brillanti di questa città preferiscono rimanere esuli della politica anziché farla. E la si può fare in tanti mori non necessariamente candidandosi. Preferiscono rimanere ai margini per il timore di non essere ascoltati o per il timore di essere sentiti e magari subire conseguenze. Questo non può esistere. Non può esistere questo. Non si costruisce una città spegnendo le luci, spegnendole intelligente, costringendole all'obbedienza. Non si costruisce una città chiudendo tutte quelle fonti di energia che arrivano dalle persone. Così si costruisce soltanto qualcosa di piccolo, gracile e poco produttivo. Andrà bene per una persona, per dieci, mai per una comunità. Mai. Noi ci confrontiamo con un futuro nel quale è del tutto evidente a tutti che dobbiamo valorizzare. Che cosa? Che cosa va valorizzato? Quando mi chiedono cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare per noi? Beh, facciamo una cosa. La prima cosa che facciamo è ridarvi la libertà di partecipare, la libertà di cambiare. Quella è la prima cosa. Perché guardate che io qui non ho fatto niente. Io non ho fatto niente. Nel cantiere io sono poco più che un ospite. Hanno fatto tutto loro. Decine di artisti che sono venuti ad animare quel luogo. Decine di persone ad animare i dibattiti culturali e politici. Io non ho fatto niente. Ho soltanto aperto le porte. E non metterò la firma su questo successo. È il successo di chi c'è stato, di chi ha partecipato, di chi ha costruito. Non ci sia propria delle energie altrui. È sbagliato. Le energie altrui vanno semplicemente valorizzate. Valorizzate. Guardate, a Corato ci sono delle espressioni artistiche straordinarie. Ma davvero straordinarie. E io parlo delle espressioni artistiche per non parlare di quelle culturali, intellettive, professionali. Io in questi giorni, non lo nascondo, mi sono anche caricato un po' di negatività. Perché mi avvicinano tante persone dicendo guarda io vorrei fare questo, però, e questa è la virgola, e questo è il comma, e questa è la burocrazia in generale, non me la fanno fare. Tralasciamo tutto quello che poi è legato, e voi lo sapete meglio di me, non ve lo devo spiegare. La burocrazia può essere utilizzata per applicare la legge oppure semplicemente per dirottare il richiedente su altri fronti. Ma di questo non voglio parlare. Lo sapete già a tutti. Non dico ciò che voi tutti sapete. Sapete bene che cosa significa avere un procedimento bloccato e doversi porre il problema. A chi vado? Lo sapete già tutti, non vi dico niente di nuovo. Il punto è che molte di queste persone sono davvero, hanno maturato una frustrazione incredibile. E sono tante. Non parlo soltanto del piccolo esercente, del giovane che vuole aprire la prima attività o di quello che ce l'ha già e la vuole semplicemente espandere. Io parlo di imprese, imprese che dovrebbero essere portate in palmo di mano, dovrebbero essere coperte di fiori per il lavoro che danno, per la vita che salvano, ed invece vengono continuamente bloccate, vengono continuamente costrette ad attendere, a lottare. Ma di cosa stiamo parlando? C'è un intero tessuto industriale che è ben consapevole di quali sono le sue potenzialità e non riesce ad esprimerle. Noi a loro dobbiamo parlare. Noi dobbiamo dire loro che mai un comma, una virgola, un articolo sarà utilizzato contro l'iniziativa. Mai un comma, un articolo, una virgola, un dirigente, un funzionario, un impiegato saranno utilizzati per bloccare. Saremo una gioiosa macchina amministrativa. Noi aiuteremo perché questo un'amministrazione deve fare, deve raccogliere l'iniziativa e allevarla, farla crescere. Questo è quello che fa crescere la comunità. Tutto il resto fa crescere soltanto un pugno di uomini, i giovani. Ma voi credete davvero che sia difficile, così difficile, riattivare la speranza nei giovani? Io non lo credo. I giovani sono i naturali portatori del cambiamento. Ce l'hanno in testa. Ce l'hanno in testa. Molto più di me. Io posso soltanto aiutarli. Loro hanno una visione del futuro e quando non ce l'hanno è perché semplicemente è coperta da uno strato di cenere fredda. Loro sono quelli che hanno, come dire, dei codici per interpretare la realtà e per proiettarsi nel domani, nel comune che verrà appunto. Sono loro le nostre risorse. Sono loro. Sono loro quelli a cui dobbiamo guardare. Sono loro così come lo sono i bambini, così come lo sono le donne. Non tornerò su temi che sono stati già brillantemente trattati. Io veramente ringrazio i candidati che hanno accettato, come dire, di affrontare il battesimo del palcoscenico, peraltro con una piazza anche parecchio impegnativa. Lo hanno fatto egregiamente e si sono fatti carico ognuno di loro di una porzione del programma e ognuno lo ha fatto cercando di corrispondere a quel pezzo di programma, cercando di riversare in quel pezzo di programma quella che è la loro esperienza, quelle che sono le loro aspettative. Bene, il programma, guardate, noi probabilmente scorrerà, lo avete già visto scorrere solo per i temi essenziali. Il programma. Io non mi sento, lo dico molto francamente, legato al programma. Tutto quello che è scritto è un impegno e lo rispetteremo, ma il nostro programma ha tante pagine bianche perché una comunità vive, evolve, i problemi cambiano, le opportunità cambiano e se tu credi nella partecipazione devi far sì che attraverso la partecipazione si continui ad arricchire il programma. È un flusso ininterrotto, non c'è un momento in cui dici basta, non c'è, non ci sarà mai. Guardate, noi attiveremo subito dopo le elezioni, gli incontri periodici con la città. Ci tengo, ci tengo a farli e sono certo che li faremo per quartieri e li faremo per categorie. I primi incontri andranno malissimo, già lo so. Una comunità non abituata a partecipare troverà in quelle occasioni semplicemente un momento di sfogo. Ed è giusto che sia così. Il sindaco non deve andare lì soltanto dove ci sono cento mani pronte ad applaudire, non è lì che si va. Tu devi andare dove la gente soffre, tu devi andare anche a prenderti qualche parolaccia. Ci devi andare, ci devi andare. Devi andare a prenderti anche le freccette. Ci devi andare. E io ci andrò perché non ho paura di questo, perché so già qual è il passo successivo. Il passo successivo sarà l'ascolto, il passo successivo sarà la proposta, il passo successivo la sintesi e poi la decisione. E quella sarà una decisione condivisa contro cui nessuno più dirà parole grosse ne tirerà freccette. Questa è la sfida. Ed è una sfida così impossibile. Vi sembra questa una, come dire, una dinamica amministrativa impossibile da attuare? Ma guardate, se lo pensate non mi votate, non mi votate perché è esattamente quello che farò, quello che faremo, perché questa idea è ampiamente condivisa. Cosa volete? Sceglietelo, sceglietelo adesso, sceglietelo il 26 e 27 maggio. Volete che vado a tagliare nastri o volete che vado tra i problemi della gente. Noi non lasceremo nomi su lapidi funerarie a ricordo dei nostri valori, dei nostri meriti e delle opere compiute. Non siamo più nell'Ottocento. Quello che l'amministrazione produce è quello che è la comunità stessa a produrre. Guardate, nel momento in cui ci si appropria di un risultato si mortifica la comunità. La comunità non si sente più partecipe di quel risultato. Al massimo dirà, ma quanto è stato bravo Renato. Dopodiché Renato passa, va via, Renato durerà qualche anno. Dopodiché cosa resta? Cosa resta? Viene meno il senso di appartenenza. Viene meno proprio quel sentirsi cittadini, protagonisti. E quando la comunità non si sente, come dire, proprietaria in senso ampio di un'opera, di un servizio, di un aiuola, persino di una panchina, la maltratta. La guarda come qualcosa di estraneo a sé. Invece, e questo è quello che hanno sperimentato in tante città, nel momento in cui tu coinvolgi i quartieri, le case, le periferie, nelle scelte, nell'allestimento urbano, nella panchina, lì scatta un meccanismo quasi miracoloso. Che la gente protegge. È stato fatto, non lo sto inventando, è stato sperimentato. È quello che accade realmente. E questo è molto importante, soprattutto nelle periferie. Noi abbiamo una visione delle periferie che è un po' policentrica, se vogliamo. Io non credo che si possa, come dire, ridurre l'intervento urbano al centro. Il centro è un bel biglietto da visita, ma se tu dimentichi le periferie, lì viene meno proprio il senso di appartenenza alla comunità. Lì fa dei danni sociali che sono incalcolabili, perché restano negli anni. Perché ogni, chiamiamolo prato, ogni prato incolto, ogni agliuola sbrecciata, ogni muro scrostato, ogni carenza di servizi, ricorda ogni giorno a quei cittadini che sono cittadini di serie B. Sono cittadini di serie B, perché non abitano al centro. Noi non vogliamo questo. Noi vogliamo una città in cui la periferia viva, viva, sia viva, attiva, sia consapevole, sia partecipe. Questo è quello che faremo. Questo è quello che realizzeremo. Guardate, questo è un momento particolare. Io so, perché mi arriva evidentemente, che c'è una profonda disaffezione per la politica. lo sappiamo tutti. Probabilmente anche molti di voi hanno sfiducia, hanno diffidenza. Allora proviamo a uscire da questo, come dire, vordice di diffidenza. Io dico non vi fidate, non vi dovete fidare. Perché la fiducia per come è stata interpretata, per come viene interpretata, significa delega, vai, fai e poi si pensa. Seguitemi, tallonatemi, strattonatemi, spingetemi quando vado piano. Aiutatemi a rialzarmi se inciampo. Queste cose si fanno insieme. La fiducia non è una cambiale in bianco. Certo che ve la chiedo, ma ve la chiedo solo per un giorno. Il giorno dopo vi voglio ancora a pretendere, a pretendere da me, a chiedermi il conto. E non mi fate sconti, non ne voglio. Io la responsabilità me la prendo tutta, tutta. La responsabilità di quello che si fa e di quello che non si fa. La capacità di dire anche ho sbagliato, ho sbagliato. Qui sembra che non sbaglia mai nessuno. Ho sbagliato. Perché è da lì che nasce la vera fiducia. Da quel rapporto di lealtà che nasce anche dal fatto che tu non ti senti un superuomo. Perché non lo sei. E quando credi di esserlo, quando credi di essere semplicemente più alto degli altri, beh è perché ti sei messo sulle spalle degli altri. E li stai schiacciando. Li stai schiacciando. Questo non si fa. Punto. Ci sono delle regole su cui non si può transigere. Noi possiamo discutere di come fare la piazza, di che disegnino fare all'aiuola. Ma ci sono delle regole fondamentali, dei metodi. La partecipazione, la responsabilità, l'umiltà, il mettersi da parte, la capacità di far crescere tutti. Tutto questo deve far parte, come dire, è la spina dorsale di un'azione amministrativa. Senza di questo non si va. Senza di questo ci si ferma. Senza di questo ci si chiude dentro i fortini della politica. ci si chiude dentro i propri piccoli feudi. Si issano le bandiere sulle torri più alte e intorno c'è il deserto. Guardate, qui siamo in un paese strano dove chi si sente è dall'altra parte, rispetto a quella in cui tu sei, quasi teme. Che succederà? Quali ritorsioni subirò? Ragazzi, votate chi volete! Nessuno vi toccherà! Nessuno vi toccherà! Noi non andremo a spargere sale sul territorio degli avversari. Noi abbiamo bisogno di tutti! Noi vogliamo far crescere tutti! Noi non vogliamo la carestia in chi non ci segue. Noi vogliamo che tutti crescano. Noi siamo una comunità e non lo siamo solo in questa piazza. Lo siamo in tutta la città. Quando dico in tutta la città dico tutta. Tutta. Non avrò mai nemici io. Non avrò mai i veri avversari. Potremmo avversarci nella politica ma nell'azione amministrativa non ci saranno mai amici e nemici. Non ci sarà mai nessuno che potrà vedere in me solo perché di un'altra parte politica un ostacolo alla propria iniziativa, un ostacolo alla propria libertà, un ostacolo alle proprie legittime ambizioni. Questo, ve lo giuro, non accadrà mai. E se qualcuno dell'amministrazione dovesse permettersi di utilizzare questi sistemi, anche su questo non transigo, sarà preso e messo fuori senza problemi. Perché ci sono regole che non ti consentono trasgressione, che non ti consentono eccezione. Però anche io non mi voglio fidare di me. Non mi voglio fidare di me stesso. Perché non posso chiedervi un esercizio di fiducia che vada oltre un certo limite. Potete voi avere fiducia in un cassetto chiuso, in un armadio blindato? Potete voi avere fiducia in qualcosa che passa sotto silenzio, lontano dai vostri occhi? Non solo non la potete avere, ma non la dovete avere. Non la dovete avere. l'antidoto è uno solo. È uno solo, amici, è uno solo. E lo voglio applicare innanzitutto su me stesso. La trasparenza. La trasparenza. Quella che fa sì che tutti i tuoi atti siano pubblici. Quello che fa sì che un cittadino con un clic possa accedere alle determini, alle delibere, possa entrare nelle viscere dell'azione amministrativa, possa controllarla senza dover fare istanze, marche da bollo, aspettare un mese e magari sentirsi dire non puoi. E anche qui non stiamo inventando niente. C'è già una legge. Non è rispettata, ma c'è. Noi ci limiteremo a dare corso e seguito a quella legge. Vedete, amici, questo è un bel progetto ed è bello perché va molto, molto, molto oltre me. Questo è un bel progetto perché non inizia con me, non finisce con me, camminerà sulle gambe di centinaia di persone. Però è un bel progetto che a molti può anche dare fastidio, può non piacere. Vi ricordate la scelta? E beh, c'è chi anche sceglie la parte diversa, no? Chi vuole la continuità, chi vuole crescere lui e non gli altri, chi vuole dar spazio ai propri interessi e non a quelli della comunità. Capita. Allora voi in questo periodo sentirete anche delle polemiche, sentirete parlare male di me, del progetto. E io concludo solo con un invito. Quando vi siete feriti, quando magari attaccheranno voi stessi, quando sarete al centro di una questione in cui, siccome siete parte o vi sentite parte del progetto o vi sentite lesi, non li biasimate, non li criticate, non accettate la polemica. Aiutateli! 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 a capire che la città non è mia, non è sua, non è loro. La città è vostra, è vostra, è vostra!